Presidente, quinta edizione di Fuoriclasse insieme a te, per voi splende sempre il sole? Sì, grazie al cielo sì, cinque anni di bel tempo, sotto tutti i punti di vista. Qual è lo scopo di questa iniziativa? Di dare evidenza di un'intuizione di usare lo sport come collante del nostro modello educativo che vede al centro la formazione professionale, ma che attraverso lo sport di Fuoriclasse è un grande collante di tutti i nostri ragazzi che hanno la possibilità di sfruttare delle loro capacità e le proposte che gli vengono fatte. Per i ragazzi lo sport è molto importante per la crescita? Certo, perché gli educa intanto al rispetto delle regole, al rispetto degli altri. Noi abbiamo nei nostri centri tantissime etnie che vengono da tutto il mondo e quindi attraverso lo sport c'è una possibilità bellissima di stare insieme. Ecco, ogni anno crescono anche gli studenti? Certo, e crescono anche, questo è un grande punto di soddisfazione, anche le proposte che ci fanno loro di partecipare a sport. Per esempio quest'anno c'è la novità degli scacchi, c'è la novità della pallacanestro, quindi sono tutte cose che nascono proprio dalla richiesta dei ragazzi stessi. Che cosa ne pensano i ragazzi? Come affrontano questo? Ma con grande gioia, con grande anche energia, che è classica della gioventù. Ecco, da questo punto di vista credo che noi siamo la prova provata che se orientati, se oggetto di proposte sane, i giovani hanno ancora energie fantastiche che devono essere valorizzate e che sono la più grande speranza del nostro futuro, della nostra società. Grazie. 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 Grazie.